Mai più cagni alla catena in Toscana. La giunta regionale ha approvato in via definitiva il regolamento che lo vieta dopo il primo sì che c'era stato lo scorso dicembre e il successivo passaggio nella commissione regionale preposta che si espressa favorevolmente. Il divieto a valenza immediata varrà tutto l'anno e non solo d'estate come è stato nel 2023 quando tenere i cagni alla catena fu proibito con un'ordinanza dal presidente Gianni perché con il caldo e il pericolo di incendi gli animali rischiavano di morire. Con l'atto si modifica adesso formalmente il regolamento del 2011 che ancora seppur in via eccezionale per un massimo di 6 ore al giorno con catene lunghe almeno 6 metri prevedeva la possibilità di tenere il cane legato non definendo però in maniera puntuale i casi eccezionali. Da qui la scelta di cancellarne la possibilità e definire in maniera più rigorosa il divieto precisando le eccezioni ovvero di fronte a casi di comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza. Si tratta di una norma di civiltà tenere un canna alla catena può avere serie conseguenze psichiche e fisiche per lo sviluppo degli animali ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Gianni.